La comunità di Cerce Maggiore è sconvolta per la morte di Cristian Fontana, il giovane 21enne, deceduto sul cantiere a Pietracupa, colpito da una carrucola disposta all'autopsia. Il sindaco Mascia ha già annunciato che sarà lutto cittadino. Tutti negativi al Covid, docenti e operatori ATA che finora si sono sottoposti a teste e tamponi. C'è un solo positivo a Campobasso riferito al cluster noto, negativi tamponi a Fornelli e Montaquila. Via libera dalla conferenza unificata alle linee guida per la gestione di casi o focolai Covid a scuola. Entro lunedì le regioni attendono risposte dal governo sul trasporto e sulla data di riapertura. Alcuni presidenti chiedono di posticiparla alle elezioni. Dal 2 al 5 settembre e chiusura in grande stile il 10 ottobre, sulla terrazza del Palazzo Gil di Campobasso andrà in scena la musica di qualità. La seconda edizione di Sonica, anteprima del Festival Poietica, è dedicata al Sud. A San Giovanni in Galdo, gli ospiti del progetto Regalati il Molisi avviano una raccolta fondi per restaurare l'organo del Settecento della Chiesa del Carmine. L'articolo di Selvaggia Lucarelli invece sortisce anche qualche effetto contrario. Arriva la netta posizione del giornalista Pasquale Damiani. È terminato il ritiro dei Lupi, tre giorni di stop, poi si torna a Campobasso e si riparte lunedì. Agnonesi ad un passo dall'ufficializzare il nuovo tecnico. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura purtroppo una morte sul lavoro accaduta ieri, vittima un ragazzo di 21 anni, ve lo abbiamo raccontato. Oggi raccontiamo di una comunità sotto shock, quella di Cerce Maggiore. Sotto shock è tutto il mondo del lavoro. Intanto il sostituto procuratore che ha in mano il caso, ha disposto che venga eseguita l'autopsia. Il sindaco di Cerce Maggiore, Gino Mascia, ha invece annunciato che sarà lutto cittadino. Il sostituto procuratore Vittorio Gallucci nominerà a breve il medico legale che eseguirà l'autopsia sulla salma di Cristian Fontana. Il 21 anni è morto ieri, colpito da una carrucola mentre era al lavoro. Cerce Maggiore, paese del giovane, è una comunità sotto shock. Il sindaco, Gino Mascia, non riesce a dire nulla se non che Cristian era un bravo ragazzo, figlio di una famiglia dedita al lavoro e che sarà proclamato il lutto cittadino. Non appena l'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta per la sepoltura. Il giovane, 21 anni, amante delle moto, dei cavalli, come si evince dal suo profilo Facebook, stava lavorando alla realizzazione di una rete elettrica in un cantiere all'aperto tra Pietracupa e Torella del Sagno quando è stato colpito, stando alle prime informazioni trappelate sul posto, da un gancio meccanico oppure da una carrucola. Un impatto violento alla testa che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio attorno alle 16 e un quarto. Il giovane è stato soccorso dai colleghi che hanno immediatamente allertato il 118. Quando l'ambulanza però è arrivata sul cantiere e i sanitari hanno provato a prestare i primi soccorsi, per Christian non c'era nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Torella e Boiano, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze degli altri colleghi di Christian per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. C'erano anche gli ispettori della medicina del lavoro dell'ASREM. A loro il compito di verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Per il momento il cantiere non è stato posto sotto sequestro. E la tragedia sul lavoro accaduta a Pietracupa, che ha spezzato la vita di un giovanissimo operaio, induce ad un momento di riflessione dal quale non può che scaturire pieno ed unanime cordoglio. Sono le parole dell'Associazione Costruttori Edili, che esprime lo sconforto della classe imprenditoriale edile molisana in questa triste circostanza e la vicinanza all'azienda e ai familiari coinvolti. Ed ora cambiamo argomento, ci occupiamo di Covid. Non si ferma la seconda ondata di coronavirus. In Molise nelle ultime ore si è registrato un nuovo contagio. Appartiene ad un cluster già noto. Sono 66 quelli attualmente positivi in tutta la regione. Processati nelle ultime ore 319 tamponi. Tutti negativi quelli eseguiti a Fornelli e Montaquila. A livello nazionale i nuovi casi sono 1.411 e non si registra nessuna regione a contagio zero. Prosegue quindi l'ondata di coronavirus dovuta soprattutto ai rientri dalle vacanze. In Molise si registra un nuovo caso. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 319 tamponi ed è emersa la positività di una persona di Campobasso che fa riferimento a un cluster noto. La buona notizia è che sono risultati tutti negativi. I primi test effettuati sui contatti delle persone risultate contagiate a Fornelli e Montaquila. Ma lo screening sulle catene epidemiologiche dei molisani rientrati da fuori Italia e da fuori regione che nei giorni scorsi hanno avuto un esito positivo al tampone proseguono. I casi attuali in regione sono 66. Tra questi 63 persone sono asintomatiche e isolate a domicilio. Tre persone risultano ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. E il maggior numero di casi è proprio nel capoluogo 37. Poi 6 a Termoli, 5 a Isernia, 5 a Campomarino, 4 a Sant'Elia a Pianisi, 2 a Campolieto, 2 anche a Forli del Sannio, un caso poi a Ferrazzano, 1 a Filignano e ancora 1 a Macchia Godena, 1 a Montaquila e 1 a Ripa Limosani. Aumentano anche le persone in quarantena, ora 133 in tutto il Molise. Tutti i negativi al Covid, invece i 900 tra docenti e operatori del personale ATA che finora si sono sottoposti a test e tamponi. Lo ha riferito il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, che inoltre annuncia il via a nuove prenotazioni dal 1 settembre. Intanto i consiglieri regionali Calenda e Cefaratti chiedono osirologici anche nei centri socioeducativi. Il test non è obbligatorio, ma la risposta dei primi giorni lascia emergere il grande senso di responsabilità di docenti e personale ATA. Dopo il boom della prima settimana di controlli anti-Covid-19, c'è la prima buona notizia. I primi 900 riscontri di test e tamponi sono negativi. Lo ha annunciato all'ANSA il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, che sta seguendo con particolare attenzione gli esami su base volontaria degli addetti del mondo della scuola. «Avevamo avuto qualche segnale sierologico, ha spiegato Florenzano, ma al successivo tampone non abbiamo avuto positività». Dall'azienda fanno sapere che il calendario delle prenotazioni per il momento è saturo e che è possibile prenotarsi dal 1 al 4 settembre. Intanto dal Consiglio regionale si leva una voce che chiede test anche per i centri socioeducativi. È quella che proviene dai banchi di Filomena Calenda e di Gianluca Cefaratti, i quali si rivolgono proprio a Florenzano e al governatore Toma, perché vengano predisposte iniziative che garantiscano sicurezza al personale e ai tanti ospiti di queste strutture. Per Cefaratti e Calenda bisogna fare presto, in quanto proprio in quei centri si riscontrano molti momenti di aggregazione. Solo con interventi mirati e immediati, dicono i consiglieri, che peraltro sono titolari della delega alle politiche sociali, è possibile fronteggiare questa seconda ondata di contagi. I giovani, spesso asintomatici, sono inconsapevolmente il vettore della propagazione, e per questo riteniamo sia opportuno effettuare i test sierologici a tutti gli operatori ospiti dei centri diurni. Tanti ragazzi, considerata la fragilità della loro condizione sociale, hanno bisogno più di altri, di piccole accortezze, che se trascurate potrebbero amplificare la problematica e risultare dannosi con effetti devastanti anche sulle famiglie. Via libera dalla conferenza unificata, le linee guida per la gestione di casi o focolai covid a scuola. Entro lunedì le regioni attendono risposte dal governo sul trasporto. Convocata dal ministro Boccia, la conferenza unificata ha approvato all'unanimità il documento elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla gestione di casi di contagio nelle scuole. Alla seduta in videoconferenza hanno partecipato anche i ministri Speranza e Azzolina, il capo della protezione civile Borrelli, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, quello della conferenza delle regioni Bonaccini, Lanci, De Caro, De Lupi, De Pascale e tra i governatori Bardi, Fontana e Donato Toma. Il governo ha accettato le raccomandazioni della conferenza delle regioni da me presieduta ieri. Il governo ha accettato anche quella piccola condizione che avevamo posto nel non indicare per gli alunni da 6, per i bambini da 0 a 6 anni, i piccoli gruppi, ma i gruppi liberamente formati, liberamente costituiti dai direttori didattici. Questa è una cosa importante perché consente una certa flessibilità nel costituire i gruppi in quella fascia di età particolarmente delicata. Quindi siamo molto soddisfatti. Nel fine settimana, governo, regioni e denti locali saranno al lavoro col Comitato Tecnico Scientifico per chiudere le linee guida condivise sulla sicurezza sanitaria nel trasporto. Entro lunedì, per la precisione, lunedì mattina, faremo una conferenza Stato-Regioni per definire l'intesa sulle linee guida che ci proporrà il Comitato Tecnico Scientifico attraverso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Già vi anticipo che domani avremo una conferenza delle regioni per discutere del documento che il Comitato Tecnico Scientifico sul trasporto con un occhio particolare alla scuola avrà emesso in queste ore. E aumenta però il pressing per rinviare l'apertura dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, una posizione sostenuta col suo consueto piglio per primo da De Luca, ma che ora sembra abbastanza condivisa. Se le cose rimangono così, le incertezze non sono tutte spazzate via, per cui qualche governatore e i governatori che chiedono questo lo chiedono a ragione. Può darsi che mi aggiunga anche io se le cose rimangono così come sono ad oggi. Ma se le cose evolvono, così come io spero, nei prossimi due giorni, nei prossimi 48 ore, verso una definizione delle modalità per il trasporto degli studenti, penso che si possa rispettare in questo caso la data del 14. E in vista della riapertura dell'anno scolastico, al fine di organizzare il trasporto degli alunni, il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, invita i genitori interessati a iscrivere i propri figli al servizio entro il 4 settembre prossimo, mediante compilazione di un apposito modulo pubblicato sul sito internet e a disposizione presso gli uffici comunali. Si fa presente, si legge nell'avviso, che le iscrizioni tardive saranno gestite con riserva e fino ad esaurimento dei posti disponibili sugli scolabus. Al momento, il costo del servizio rimane invariato, ma potrebbe essere oggetto di revisione sulla base delle spese sostenute dall'amministrazione anche in seguito all'attuazione delle linee guida e delle norme sanitarie che saranno adottate in materia. Il sindaco Ricci confida ovviamente nella collaborazione di tutti. Anche il comune di Campobasso informa che a partire dall'anno scolastico 2020-2021 la gestione delle istanze per accedere al servizio di trasporto scolastico sarà effettuata in modalità online. I genitori degli alunni delle scuole primarie che intendono far richiesta di trasporto scolastico dovranno quindi registrarsi alla piattaforma per una maggiore visibilità della maschera di inserimento dati è consigliabile accedere direttamente dal pc piuttosto che dal cellulare o dal tablet. L'associazione della stampa del Molise esprime vicinanza al collega Enzo Luongo e a Tele Molise per le scritte comparse questa mattina a Campobasso nei pressi della redazione centrale della televisione dell'abitazione del giornalista e in altri quartieri della città Luongo ha riportato in un servizio la testimonianza di quanto accaduto due sere fa in via Ferrari quando alcuni tifosi senza mascherina hanno dato vita ad assembramenti acceso fumogeni ed è quindi stato poi preso di mira il sindacato dei giornalisti stigmatizza l'accaduto ad Asso Stampa si unisce anche l'amministrazione comunale di Campobasso in una nota firma del sindaco Roberto Gravina e ovviamente l'ordine dei giornalisti del Molise a Termoli i tecnici della Rieco Sud hanno effettuato una serie di sopralluoghi in alcune zone purtroppo soggette all'oltraggiosa inciviltà di alcuni cittadini hanno trovato rifiuti abbandonati in via Rio Vivo precisamente al di sotto dei cavalcarie della tangenziale luogo più volte ripulito dall'azienda dove sono presenti buste di mondizia di origine domestica e materiali ingombranti presso l'area privata in via dei Lecci sono stati trovati rifiuti ingombranti indifferenziati e materiale di scarto edile la Rieco Sud si è già mobilitata per provvedere al recupero e al successivo smaltimento di questi rifiuti il Comune chiede la collaborazione di tutta la cittadinanza ad osservare le regole ambientali e a denunciare gli autori di scarichi illeciti di rifiuti ricordando che è possibile portare gli oggetti ingombranti di cui si desidera disfarsi presso il centro di raccolta dal 2 al 5 settembre e chiusura in grande stile il 10 ottobre sulla terrazza del Palazzo Gil andrà di scena la musica di qualità la seconda edizione di Sony canteprima del festival Poietica e dedicata al Sud questa mattina la presentazione alla fondazione Molise Cultura Nessuno sa chi è ai suoi concerti c'è una sagoma dietro la console da DJ misterioso ma da Youtube ha dato nuova vita alla canzone napoletana si parte con la presentazione del libro Io non sono liberato poi dalle 21 il 2 settembre Pietro Roffi e Maria Mazzotta Live sulla terrazza della Gil e il Sud il protagonista di Sonica anteprima musicale di Poietica che proseguirà con Alessia D'Alessandro e Patrizia L'Aquidara Luci Cesare Basile e Caminanti e poi Liana Marino e Perturbazione Live per chiudersi durante Poietica il 10 ottobre in grande stile Teresa Salghiero voce dei Matri Deus che torna a Campobasso dopo i 25 anni quando presentò qui a Campobasso i brani della colonna sonora di Lisbon Story di Wim Wenders un concerto che sta già avendo tantissime prenotazioni anche da fuori Molise la seconda edizione di Sonica dal 2 al 5 settembre si adegua alle regole anticontagio dai borghi molisani torna al sicuro nel Palazzo Gil cultura più ricercata rimarca il presidente della regione Donato Toma nella presentazione della rassegna segno che si può investire anche in Molise sulla cultura ancora Toma e rivendica il boom di presenze quest'anno merito dell'emergenza sanitaria che spinge a cercare luoghi dove il distanziamento è naturale ma anche delle azioni che abbiamo messo in campo dice insieme a una mostra la parentesi sulla transumanza la rassegna di annoarchi smidedli Sonica rappresenta il ritorno degli eventi in presenza dopo la cultura virtuale durante il lockdown il tema è importante il sud un tema fondamentale il sud del mondo in generale perché esiste anche un sud del nord quel sud che ha prodotto tantissimo nel corso della storia e che deve ritornare anche al centro della riflessione la musica è una delle tante forme di espressione di grande espressione di questo sud e noi abbiamo cercato di intercettare in questo momento alcune delle figure più rappresentative All'articolo di Selvaggia Lucarelli che ha raccontato il Molise risponde Pasquale Damiani giornalista molisano direttore editoriale prende posizione a riguardo analizzando rigo per rigo quello della giornalista del fatto sentite L'articolo di Selvaggia Lucarelli sul Molise che esiste ma ha indignato Pasquale Damiani collega e direttore editoriale che alle righe della giornalista del fatto ha risposto con altre tante righe sulle pagine di primo piano Molise e alla Lucarelli Damiani ricorda che a fronte di peggiori anomalie esistenti in tutto il paese Italia chi viene in Molise per la prima volta certamente non può pretendere che ci siano indicazioni lungo la strada che conduce al sito archeologico di Sepino sfido chiunque e a trovare in altre parti d'Italia cartelli indicanti monumenti importanti del singolo territorio si legge nel fondo del giornalista molisano che facendosi portavoce del pensiero di altri che scrive la pensano come me rammenta però il gran pienone di questi giorni da Termoli a Castel San Vincenzo da Pietrabbondanti a Capracotta da Agnone a Larino per finire ai piccoli centri letteralmente presi d'assalto da persone che hanno scelto il Molise come luogo per trascorrere le ferie a tutte queste persone dobbiamo dire grazie il Molise ha avuto il giusto riconoscimento dopo anni di turismo mordi e fuggi scrive ancora Damiani prendiamo esempio Capracotta la perla dell'Appennino che ha visto quest'anno affluenza e record che nessuno avrebbe mai immaginato comitive di turisti che partendo dall'altissimo Molise si sono recate a visitare i siti di pietra abbondante Sepino e Isernia la Pineta il lago di Castel San Vincenzo i meravigliosi paesi dell'Alto Molise fino ad arrivare a Termoli per qualche giorno al mare prese d'assalto anche le cascate di Carpinone a Damiani si è unito l'assessore al comune di Isernia Eugenio Chianischi che sui social ricorda che anche lui alla fine nel pezzo della Lucarelli legge di molisani quasi trogloditi e che ben venga a questo punto la puntualizzazione di Pasquale Damiani che parla invece di un popolo molisano che ha imparato a bastare a se stesso orgoglioso ed eccezionale pronto a partire da capo dopo le tante vicissitudini di guerre terremoti pandemie ed altro un popolo fiero che non ha bisogno di lezioni da chi nella vita probabilmente non ha mai sofferto è facile puntare il dito su quello che non funziona in pochi giorni di permanenza eppure il Molise conclude Damiani è un paese meraviglioso con tutta la sua arte storia artigianato e un patrimonio enogastronomico che ci invidiano da più parti va soltanto riscoperto giorno dopo giorno e guardato con occhi nuovi liberi da preconcetti a San Giovanni in Galdo invece gli ospiti del progetto regalati il Molise si mobilitano per far conoscere la nostra regione ma soprattutto hanno avviato anche una raccolta fondi che consentirà di restaurare l'organo del Settecento ancora un gesto di gratitudine riconoscenze e affetto nei confronti della comunità che li ha accolti i numerosi turisti ospiti a San Giovanni in Galdo grazie al progetto regalati il Molise continuano a manifestare apprezzamento per quanto ricevuto e lo fanno con gesti concreti molto importanti l'ultima storia di queste ore è senza dubbio una delle più belle inaspettate che l'Associazione degli Amici del Morrutto ha raccolto tre turiste provenienti da Torino non appena tornati a casa hanno deciso spontaneamente di lanciare una raccolta fondi pubblica per restaurare il grande organo del Settecento conservato nella chiesa di Santa Maria del Carmine è il minimo che possiamo fare per San Giovanni in Galdo che ha saputo accogliere forestieri con una energia che merita di essere contraccambiata spiega Fabiana Palmieri promotrice dell'iniziativa così è stata lanciata una raccolta fondi che punta all'obiettivo dei 40.000 euro quando in paese ci hanno aperto le porte della chiesa racconta ancora Fabiana il signor Rocco ci ha raccontato della dedizione con cui si dedica al mantenimento di quel posto ci ha mostrato il bellissimo organo del Settecento spiegandoci che non è funzionante e che sarebbe una gioia sentirlo un giorno risuonare la comunità di San Giovanni in Galdo ha saputo accogliere e donare gratuitamente a più di 200 turisti un'esperienza unica e questo è il nostro modo di ricambiare tentare di raccogliere i fondi necessari per restaurare il grande organo del paese lo strumento aspetta una nuova vita e noi contiamo grazie all'aiuto di molti di restituirlo alla comunità San Giovannara viaggio in kayak attorno all'Italia per far conoscere il volontariato l'iniziativa di Andrea e Stefania della loro grande voglia di ripartire distribuendo sorrisi oggi ha fatto tappa a Termoli è approdato a Termoli questa mattina il progetto che si chiama Riscossa e che viaggia in kayak nasce dall'idea di due ragazzi Andrea 35 anni professore di matematica e scienze alle scuole medie del centro salesiano di Treviglio e Stefania 28 anni che ha vissuto all'estero per tanto tempo ed ora insegna inglese ai bambini cosa hanno in comune questi ragazzi entrambi amano viaggiare e dedicare il loro tempo agli altri sono clown di corsia hanno già fatto diverse esperienze di volontariato internazionale per portare un sorriso e un po' di leggerezza sono operatori di circo e teatro sociale il loro sogno è attraverso il metodo ludico e educativo formare i giovani nelle scuole per avvicinarli al volontariato e anche dare una prospettiva positiva a chi invece vive una situazione di disagio con l'obiettivo di recuperare autonomia e autostima di una cosa sono certi non possiamo cambiare il mondo hanno detto ma possiamo cambiare il momento e a volte tutto ciò di cui l'altro ha bisogno dalla voglia di ripartire dal sentimento di una forte unione con l'Italia intera che ha affrontato la stessa battaglia prende vita il progetto riscossa che ha permesso a questi due giovani di circunnavigare la penisola italiana sono partiti da 20 miglia il 27 giugno scorso oggi hanno fatto tappa a Termoli attraccheranno poi ipoteticamente a Trieste il 30 agosto dopo aver toccato diverse città lungo tutta la costa italiana obiettivo far conoscere la realtà del volontariato che a noi personalmente ha donato tanto su tutto nuovi occhi per affrontare in modo positivo la vita quotidiana con le sue gioie ma anche con le sue difficoltà vorremmo trasmettere questo per dare un'opportunità di riscossa hanno detto i due giovani l'incontro è il senso stesso del viaggio hanno donato nasi rossi per regalare un sorriso in segno di speranza e di voglia di ricominciare uniti nell'aiuto reciproco grande successo al Parco de Filippo per la storia di Ion Kazaku portata in scena da Indra al Campobasso Summer Festival è stato uno spettacolo sviluppato sul filo della tradizione ma l'insegna della sperimentazione musicale della ricerca scenica quello che il collettivo Indra Art Project ha portato sul palco del Parco de Filippo giovedì sera con Requiem per il sogno americano per il secondo degli appuntamenti in programma nel cartellone del Campobasso Summer Festival con una narrazione strutturata attraverso una mista in scena ricca di contaminazioni e rimandi tra danza musica teatro e letteratura il collettivo ha raccontato al pubblico del Campobasso Summer Festival la storia reale di Kazaku un operaio rumeno bruciato vivo dal suo datore di lavoro italiano a Gallarate nel 2000 perché reo di voler essere regolarizzato la tragica vicenda dell'operaio rumeno affrontata già nel 2015 in un libro scritto da Dario Fo e Florina Kazaku figlia di Ionne è stata ripercorsa dagli Indra con scelte teatrali e musicali capaci di sottolineare in modo potente la violenza e con esse sopprusi ai quali il piastrellista arrivato dalla Romania venne sottoposto un esperimento creativo quello del collettivo Indra che ha voluto rappresentare un requiem per il sogno americano dei tanti emigranti che raggiungono il nostro paese durante lo spettacolo è stato proiettato in anteprima il video musicale del brano Taranta Storm girato dal collettivo nel centro storico di Campobasso con lo scopo di presentare un progetto che oltre che artistico possa essere poi anche indirizzato ad aumentare l'attrattività e le bellezze della città bene diamo uno sguardo alle previsioni del tempo previsioni del tempo per sabato 29 agosto si rinnovano condizioni anticicloniche garanzia di una bella giornata di sole temperature in ulteriore aumento sui versanti adriatici venti sino attesi dai quadranti meridionali con mari mossi queste le temperature nei maggiori centri della regione Campobasso minima 18 massima 32 gradi Sernia minima 18 massima 31 gradi Termoli temperature comprese tra i 26 e i 28 gradi Venafro minima 17 massima 31 gradi è il momento dello sport ci vediamo tra un istante è terminato il ritiro del Campobasso tre giorni di stop poi si torna in città in queste ore e si ricomincia lunedì è terminato il ritiro precampionato gli 11 giorni di Rosso Blu a Palena sono finiti il lavoro pesante è stato fatto la benzina messa nel sorbatoio ora tre giorni di riposo concessi dallo staff tecnico a tutta la squadra che è sul campo dagli inizi di agosto e continuerà ad accumulare ancora minuti e condizione fisica nelle gambe a Campobasso perché da lunedì 31 agosto si riparte la Rosa ha bisogno di rinforzi e questo lo sanno bene ci stanno operando il direttore sportivo De Angelis il responsabile dell'area tecnica Mandragola attaccante in primis la punta centrale serve come il pane anche se lo scorso anno mister Codini ha giocato con il falso 9 cioè Pietro Cogliati fondamentale come un bicchier d'acqua nel deserto oppure l'ingaggio di un esterno offensivo under possibilmente 2002 in stile Zammarchi per intenderci in questa maniera si potranno scegliere due modi di giocare pivo di riferimento strutturato oppure attacco più leggero due opzioni molto importanti di cui usufruire nel corso della stagione dunque reparto avanzato sotto i riflettori ma non solo serve almeno un altro fuoricuota centrocampo e un altro portiere l'organico reparto per reparto sicuramente al completo la difesa d'altronde tutti i titolari della scorsa stagione sono stati confermati parliamo dei centrali Menna Dalmazzi e Sbardella ai quali bisogna aggiungere il giovane Molisano Pistillo del terzino sinistro Van Zand che sarà under per un altro anno dello stesso esterno destro Cristian Fabriani che deve solo essere ufficializzato e si giocherà un posto con Antonio Martino già in prima squadra dalla seconda metà del torneo passato sta per firmare anche Angelo Capozzo altro fuoricuota che darà il cambio a Van Zand quasi chiuso il centrocampo Brenci, Bontà e Candellori godono della fiducia totale da parte dello staff il quarto è Tenko Rang under considerato alla stregua di un calciatore over manga un altro ragazzo 2001 poi c'è il capitolo attacco dove vanno piazzati due elementi chiave per ora le fasce sono coperte con Cogliati Esposito e Di Domenico Antonio giungeranno una punta centrale un esterno e infine in porta attualmente figura il solo Matteo Raccichini classe 2000 e si è in trattativa con il portiere del Cagliari primavera Davide Piga l'Olimpia agnonese ad un passo dall'ufficializzare il nuovo tecnico che siederà sulla panchina Granata l'Olimpia agnonese ad un passo dall'ufficializzare il nuovo tecnico che siederà sulla panchina dei Granata a riguardo sarà decisiva la settimana prossima negli ultimi giorni la dirigenza di Viale Castelnuovo ha valutato molte opportunità inutile ricordare come l'identikit del nuovo allenatore sarà quella capace di coniugare una politica di austerity economica e al tempo stesso percorrere la strada che porti a valorizzare elementi con fame di rivalza e giovani dalle belle speranze in quest'ottica ascoltati diversi tecnici del panorama di serie D a tirare le somme in pole position ci sarebbero Raffaele Sposito classe 79 ex guida di Casertana e Pomigliano Dark e Andrea Libori volto noto del Girona F visto che ha allenato l'Avezzano Calcio con moltissime probabilità uno dei due sarà il prossimo allenatore dei Grifoni alla quattordicesima stagione consecutiva in quarta serie il laterale Andrea Cioccia ha firmato con la Chaminade Campobasso classe 95 aveva già militato in rosso blu cresciuto nel settore giovanile del Mirabello Calcio a 17 anni si è avvicinato al mondo del futsal entrando a far parte della Chaminade Under 18 tre stagioni intense e poi la scelta di cambiare maglia e sposare il progetto del Cus Molise oggi torna con grandi motivazioni sono rimasto entusiasta del progetto ha detto Cioccia che mi è stato presentato una squadra composta da tutti i ragazzi del posto che a mio avviso sarà valida e potrà dire la sua questo è tutto termina dunque l'edizione del nostro telegiornale che torna in diretta alle 19.30 grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito